A quattro giorni dalla sfida col Catania, una brutta notizia ha scosso l'ambiente dell'Entella. L'arresto a Bruxelles del presidente Antonio Gozzi. Il patron del club di Chiavari è stato accusato di aver corrotto alcuni funzionari nella Repubblica Democratica del Congo per ottenere appalti. Gozzi si era recato nella città belga insieme ad un suo collaboratore per rispondere alle domande dei giudici, ma questi hanno deciso di trattenerli. Venerdì si deciderà se convalidare o meno l'arresto del presidente del club Ligure. Il numero uno dell'Entella ha fatto sapere la sua totale stranità ai fatti, negando di essere stati in Congo o di avere conosciuto funzionari di quel paese capaci di influenza degli atti amministrativi. Gozzi, 60 anni, è presidente dell'Entella dal 2007. In sette anni è stato capace di portare il club dall'eccellenza alla Serie B, dove adesso si trova al tredicesimo posto con 37 punti. Amministratore delegato del Colosso Duferco e numero uno di Federa Ciai, Gozzi è anche professore di economia all'Università di Genova. Il club Ligure, tramite il sito ufficiale, ha spiegato la vicenda, confidando in un rapido accertamento della verità e al ritorno del proprio padrone in tribuna per la gara di sabato contro il Catania.